per fare questo esercizio dobbiamo per prima cosa appoggiarsi ad una parete dobbiamo poi posizionare un piede a poca distanza dalla parete stessa l'obiettivo dell'esercizio è arrivare con il ginocchio a toccare il muro senza che il tallone si stacchi da terra se vediamo che tocchiamo subito ci posizioniamo con il piede un pochettino più distanti se invece non arriviamo a toccare andiamo con il piede un pochettino più avanti dobbiamo cercare di restare in massimo allungamento quindi con il ginocchio che tocca la parete per almeno due secondi e poi ritornare nella posizione di partenza